Hai mai sentito parlare di sindrome da visione di computer? Succede quando stai troppo tempo davanti a uno schermo a distanza ravvicinata. Gli effetti possono essere mal di testa, occhi secchi, vista appannata. Una tecnica per invertire la sindrome è quella del 20-20-20. Ogni 20 minuti guarda per 20 secondi un oggetto a 20 piedi, quindi circa 6 metri di distanza. Ma gli effetti di stare troppo davanti a uno schermo a distanza ravvicinata possono ripercuotersi anche su sistema immunitario, sistema nervoso, cuore e soprattutto psicologia. In tutti questi casi pare che il rimedio migliore sia guardare gli alberi. Dal 1982 il governo giapponese promuove il forest bathing come rimedio a questi problemi. Il forest bathing vuol dire letteralmente bagno nella foresta, cioè stare tra gli alberi in contemplazione. È il miglior esercizio per gli occhi, è scientificamente provato che fa bene al fisico, abbassa la pressione per esempio. E soprattutto ti leva dal trip per il quale lo schermo a volte per motivi tristi può sembrarti più vero del mondo reale. E questo è un minuto.